Posso dire che godo, godo un pochettino stasera perché un pareggio era risultato diciamo che da Laziale aspettavo, era risultato migliore, pareggio 0-0, pareggio che comunque secondo me, oltre che andrà bene me da Laziale, perché comunque noi perdendo siamo comunque sopra la Roma, comunque Terzi, bisogna vedere cosa fa il Cagliari Adesso il Cagliari non mi ricordo contro chi è, Cagliari, 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 Sassuolo, Cagliari non è una partita facilissima quindi vedremo E comunque siamo al massimo, al massimo siamo quarti, comunque restiamo in zona Champions anche in caso di sconfitta domani con la Juve Dovessimo pareggiare o addirittura vincere domani con la Juve, che cosa difficilissima, ma ci speriamo tutti, ci crediamo tutti, saremo praticamente a 3 punti dalla Juve e a 4 dall'Inter Quindi in piena zona Scudetto, poi ovvio che la Lazio non può ambire assolutamente lo Scudetto, però se dovesse accadere noi siamo lì La classifica, i numeri dicono questo, quindi ovviamente sei lì, non puoi dire che non sei lì se vinci domani, però è un discorso che faremo domani Allora, Inter-Roma 0-0, pareggio che secondo me va bene, appunto stavo dicendo, sia a Roma che all'Inter Perché beh, la Roma ovviamente un punto a Milano e oro colato, e l'Inter comunque sai, la Roma è una squadra insidiosa Mi piace, la Roma mi piace, non mi aspettavo Fonseca fosse già così preparato per il campionato italiano, un attore molto furbo A me Fonseca piace un casino e mi piace proprio la Roma, cioè da Laziale c'è rivalità, c'è sfottò, però la Roma obiettivamente è una squadra che a me piace L'Inter un pareggio, quindi comunque domani la Juve è una partita difficile, quindi l'Inter comunque era importante non perdere oggi con la Roma Certo, giocava in casa, alla fine l'Inter è quella che ha creato un po' di più Però diciamo che l'Inter ha pensato prima a non prenderle, perché è stato un primo tempo che è iniziato appunto con un errore da parte del disimpegno della Roma C'è stata l'occasione forse più grossa, comunque una delle più grosse, con Lukaku, che lì un attaccante lì deve segnare Bravo Mirante, Mirante che era un portiere che io consideravo finito già due anni fa al Bologna Invece sia l'anno scorso che quest'anno in questa partita con la Roma stanno parando bene E grande parata, siccome lì è stata l'occasione nitida, lì Lukaku doveva fare secondo me meglio Poi è stata una Roma che prima o mezz'ora ha giocato meglio dell'Inter, frase già va bene, ha tanti giocatori di qualità E la Roma se riesce a recuperare appunto Zego che oggi era ancora un po' al 50% diciamo Comunque un Derra da recuperare, altri giocatori in infermeria come Cristante, Nikita Rian secondo me può ancora crescere La Roma veramente è una squadra forte, non dico che anche lei si può inserire nella lotta a Scudetto, però quasi Cioè la Roma non ha tanto meno dell'Inter, ha qualcosina in meno, però siamo lì E poi diciamo gli ultimi minuti, il primo tempo è venuta fuori l'Inter, l'Inter che però è un gioco molto elementare Diciamo cross dalla fascia con Candreva e Biraghi, Candreva poi anche uscito per un problema in trattato Lazzaro E poi un Inter che gioca sugli errori degli avversari, perché le più grandi occasioni appunto Dicevo quella di Lukaku sono state su errori appunto della Roma L'Inter ne ha approfittato, c'è un Lautaro veramente che è incontenibile, c'è una bestia lì davanti Lukaku ha fatto il suo lavoro sporco, comunque sono una coppia che secondo me sono perfetti Sono veramente perfetti, perché uno viene, uno va, Lukaku porta via l'uomo, Lautaro così allo spazio per inserirsi veramente bene L'Inter diciamo che ha centro campo, il problema oggi è stato un po' lì Vessino, tanti momenti, passaggi decisivi, manca un po' di quella qualità Lo sappiamo, Borcavaliero non ha giocato male, però vedi che non ce la fa più Cioè, lui ha 60, secondo me lui ha 50 massimo un'ora nelle gambe e poi l'ha tolto Cioè, se tu giochi con Borcavaliero sai già che una sostituzione devi farla Quindi è un grosso handicap Quindi secondo me questa Inter è inferiore sicuramente alla Juve e non vincerà lo Scudetto Se rimane così, se invece dovesse recuperare Sensi, Varelle, eccetera, a breve Non so però, perché ne avranno ancora per un po' A gennaio comunque l'Inter deve fare qualcosina Perché secondo me alla lunga la Juve aumenta, mette la quarta, lanca la quinta e stacca l'Inter Secondo me il mio pronostico è questo qui, ad oggi Cioè, l'Inter è solida dietro, ha due buoni attaccanti Però a centrocampo manca qualcosina E anche sulle fasce, comunque oggi ho visto di nuovo un Biraghi che a me non convince A Samoa lo conosciamo, un giocatore buono, ma niente di più Sulla destra, sì, c'è il solito Candereva bisogna vedere Lazzaro Lazzaro se ha l'altezza Comunque io appunto dico che è un pareggio che alla fine, secondo me, va bene a tutte e due Mi raccomando ragazzi, recuperate il video che è uscito oggi alle 2 e che ho girato a Milano sabato scorso Ve lo lascio in alta destra nelle schede Mi raccomando, recuperato che è molto carino Niente, ci vediamo domani con nuovi post partita Quello della Lazio e forse anche un altro nel pomeriggio Bella